Gli uomini invecchiano meglio, convinti loro, la tua cellulita è un problema, la sua pancia un cuscino per l'amore. Angoli, lasciate che vostro marito dorma sul divano. In studio, Roberta Pagnetti. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma al fondo resti sempre... Buongiorno e ben ritrovati a tutti, signore e signori all'ascolto. Buongiorno, voglio darvi il benvenuto anche a questa nuova puntata di Angoli, oggi è giovedì 29 novembre, dunque ben ritrovati. Siamo puntuali come avevamo promesso ieri, le ore 12, vi accompagniamo fino all'ora di pranzo come di consueto. Come tutti i giorni ricordo che c'è il nostro indirizzo email angolichioccio, l'espansionetv.it, questo è il modo per parlarci sostanzialmente, sia se voleste avere maggiori informazioni, sia se voleste dire la vostra riguardo a tutto quello che vi raccontiamo di giorno in giorno. Anche oggi l'abbiamo promesso, noi manteniamo le promesse, abbiamo preparato una puntata molto variegata, abbiamo tanti temi da trattare insieme. Sarà un salotto oggi prevalentemente maschile, però inizieremo con una presenza femminile a quanto gradita, con sueta anticipazione. Allora, parleremo di luce oggi? Ebbene sì, ritroveremo un nostro ospite che è già stato nel salotto, lui ci parla di progettazioni fatte con la luce, e dunque ritorneremo nel mondo di Matfelco, siamo molto felici e quindi parleremo anche della nostra città di Como e di come è stata abbellita nel corso di questi mesi. Poi ci trasferiremo idealmente in Valtellina perché sappiamo che è una destinazione molto amata per chi vuole fare dei viaggi enogastronomici, ma anche per chi vuole trovare dei particolari eventi perché è una destinazione turistica che offre veramente moltissimo. e poi, come ogni giovedì, ritorneremo anche ad incontrare gli amici di Abitare Eco e dunque ancora una volta parleremo dell'importanza dell'energia e del risparmio energetico. Ho detto che inizieremo all'insegna del mondo femminile, sono lieta di dare il benvenuto ad un gradito ritorno. Cinzia Boschiere è ritornata a trovarci, buongiorno, mi fa piacere trovarla. È un piacere essere con voi sempre. Oggi è la nostra quota rosa, perché oggi è un salotto così maschile, però abbiamo iniziato con il mondo delle donne, voglio ricordare che Cinzia è giornalista, esperta e specializzata in temi europei, viene sempre ad angoli per ricordarci che l'Europa non è così distante da noi quanto sembra, è vero? Esatto, esatto. Siamo cittadini europei e la nostra voce deve essere sentita assolutamente. Possiamo partecipare a petizioni, consultazioni online e c'è anche un'iniziativa che possiamo ricordare, l'iniziativa dei cittadini. Molti di noi non la conoscono. Di cosa si tratta? Possiamo proprio presentare delle proposte legislative, quindi raccogliendo delle firme, presentarle direttamente al Parlamento europeo. Questo cosa vuol dire? Che bisogna essere proattivi e quindi sentirsi cittadini europei per cambiare quello che non ci piace. È vero, perché noi lo diciamo sempre, l'Europa sembra sempre un'istituzione, un'entità così distante che non ci appartiene. In realtà noi siamo europei, oltre che essere italiani, possiamo dire la nostra e questo ne è un esempio. Ci sono però anche delle opportunità europee per i più giovani, ovvero per i ragazzi tra i 14 e i 21 anni. In che senso? Ricordiamo il concorso europeo i giovani e le scienze della Commissione europea, proprio organizzato dalla Direzione Generale della Ricerca. Quindi se siete ragazzi di 14, d'età compresa tra i 14 e i 21 anni, avete un interesse su una materia che sia scientifica o anche non scientifica, potete fare una ricerca, presentare il vostro progetto. Entro il 15 febbraio del 2013 potrete vincere fino a 7.000 euro a diverse borse di studio e viaggi di studio. Il concorso è un concorso europeo, possono partecipare ragazzi che siano interessanti a tematiche e approfondiscano dei temi. Quindi anche i più giovani hanno il loro spazio, il loro canale preferenziale per queste tematiche. C'è un sito internet in questo senso, possiamo segnalare www.fast.me.it. Esatto, è la federazione delle associazioni scientifiche e tecniche che ha sede a Milano e che per la Commissione europea organizza tutti gli anni questa importante selezione di nuovi talenti, i neoarchimede che abbiamo. Quindi i ragazzi sono sempre molto validi, partecipano da tutta Italia e devo dire che testimoniano come in verità la cultura italiana, quindi nelle scuole, sia di elevata qualità. E lanciamo un'ostrale anche per le scuole degli istituti cattolici con tutto quello che riguarda proprio la qualità europea anche per le scuole paritarie. Quindi ci sono anche questi istituti europei, non so il Gonzaga, piuttosto che le Marcelline, che partecipano anche a questa iniziativa europea. E per quanto riguarda proprio la scuola c'è anche il programma Comenius che può interessare la mobilità sia degli studenti che degli insegnanti. Sono tutte opportunità interessanti. Quindi segnatevi i siti, noi ve ne daremo un po' adesso in questo spazio. Cambiamo argomento, siamo passati dalla scuola, insomma dagli studenti e dai più giovani, andiamo alla salute, cerchiamo di capire anche quelle che sono le novità europee per l'ambito della salute e poi io non so se lo pronuncio bene, però volevo chiedere che cos'è ESTRO. Giusto? Allora, è proprio un'associazione, la prima associazione europea, società medico-scientifica, che si occupa delle nuove tecnologie, dei biomateriali in termini di ortopedia e traumatologia. E da sede in Italia. In particolare organizzerà il primo proprio congresso europeo, ecco di cui vediamo il sito, a Milano dal 14 al 16 di gennaio. Quindi avremo qui oltre 400 esperti, un po' da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Europa, a testimonianza che l'Italia, dal punto di vista anche sanitario, lavora bene in network a livello europeo e dà qualità a noi cittadini come assistenza. Quindi questa è una convention proprio legata all'ingegneria tessutale, alla rigenerazione dei tessuti, agli interventi chirurgici proprio innovativi nel settore dell'ortopedia e della traumatologia. Cinzia l'ha nominato e abbiamo visto l'home page. Segnatevi, se siete interessati a questo specifico argomento, il sito internet www.estrot.eu. Questa è l'home page, quindi ancora una volta tutti i riferimenti. Insomma, sono siti che effettivamente ci teniamo a segnalare, perché non si sentono nominare spesso, però esistono, insomma. Quindi sono canali aperti con noi e dobbiamo dire che ci sono. Ritornerei però, grazie alla presenza di Cinzia, come già abbiamo fatto altre volte, a parlare anche di donne, l'importanza del ruolo della donna all'interno proprio del mondo del lavoro, all'interno dei CDA, anche delle aziende, delle amministrazioni. Noi abbiamo spesso nominato Will Europe. Ritorniamo un po' a parlare di questo. Ecco, sono dei network europei proprio che si occupano del discorso della parità di genere e organizzano dei corsi con dei tutor anche al fianco delle donne per aiutarle nella neoimprenditorialità. E ci sono stati organizzati anche dei corsi, ad esempio la consigliera della parità proprio della provincia di Brescia, dottoressa Anna Maria Gandolfi, ha presentato un corso anche patrocinato dal presidente della nostra Repubblica Italiana, a favore della preparazione delle donne per i CDA. Poi io farei una chiosa perché noi donne ci prepariamo sempre, facciamo i corsi per arrivare dove gli uomini arrivano forse senza corsi. Ma l'importante... Forse dobbiamo fare un po' più di fatica a volte, vero? Esatto, l'importante è che ci sia meritocrazia, qualità e soprattutto volontà di essere preparate. Quindi i dati sono purtroppo ancora infelici, abbiamo solo 5 donne nei CDA in Italia contro 35 donne ad esempio in Norvegia e è fondamentale impegnarsi. Viva le donne quindi e utilizzate soprattutto i bandi europei sia per la formazione che per crescere professionalmente. Prendiamoci questi pochi minuti per dare incoraggiamento alle donne. Insomma il nostro salotto, nonostante sia molto variegato, però lo sapete, ha un occhio privilegiato per il mondo delle donne. Quindi signore, tutti su www.willeurope.org, questo è il sito internet. Insomma le donne si impegnano tanto, mettono moltissima passione, forse ancora non riescono a raggiungerle o non le è concesso di raggiungere determinati obiettivi, però un po' tutti lo sanno che le donne in realtà sono molto precise, le donne in realtà danno una particolare sensibilità nel lavoro, un particolare rigore possiamo dirlo. Ci sono dei dati europei che testimoniano che se si riesce a raggiungere una parità di genere ci sarà anche un aumento del PIL del 22% in Italia e anche del 15-11% dipende dai dati a livello europeo. Quindi che sia un appello questo per chi di dovere e per chi potrà ridefinire un po' quelle che sono le quote nei CDA, visto che stiamo parlando proprio di questo. Però anche un appello a tutte le signore, noi facciamoci trovare preparate però, perché è importantissimo questo. Soprattutto avere autostima di noi stesse, perché a volte siamo preparate ma facciamo sempre un passo indietro, abbiamo quello spirito di servizio che nasce dalla nostra capacità anche di creare famiglia e quindi di essere proprio al servizio della società. Imparare comunque ad ascoltare ma anche ad essere proattive e quindi presenti dove è possibile. Cinzia, sfrutto ancora la sua preparazione, insomma, questa piacevole conversazione per chiedere un'ulteriore specifica. Si parla di broccheraggio assicurativo. In questo senso come funziona in Europa? Ecco, il broccheraggio assicurativo è un'opportunità in Europa e a livello internazionale. Abbiamo delle società a cui le aziende possono fare riferimento proprio per poter scegliere e risparmiare che tipo di assicurazione utilizzare. In tutti gli ambiti, dall'impresa ai liberi professionisti. C'è proprio una legge che obbliga anche i liberi professionisti ad avere un'assicurazione. Ad esempio il gruppo GPA che opera dal 1974 fa parte di una rete che copre 118 paesi, ha 500 uffici e può dare tutta una serie di scelte. Il cittadino deve assolutamente informarsi su quelle che sono le varie opportunità anche in questo ambito. Abbiamo il sito internet anche in questo caso www.gruppogpa.it. Questa home page come sempre vale da riferimento. Speriamo che si siano attrezzati da casa, abbiamo dato tanti siti che si hanno riusciti comunque a prendere nota. Abbiamo qualcosa altro da mostrare ai nostri telespettatori? Possiamo ricordare ad esempio che a Milano Petiatria sono stati presentati dei dati sulla nutrizione, la corretta alimentazione e soprattutto anche la prevenzione dei rischi domestici per i nostri bambini. Per cui il programma Nutrimente, il professor Giovannini ha presentato i dati, quindi gli alimenti non solo ci danno energia ma possono modificare geneticamente e quindi migliorare la nostra vita. Quindi il progetto MonMilk ad esempio è un progetto europeo che consente di donare l'atto materno anche all'unità di neonatologia, è stato presentato sempre a Milano Petiatria. E un altro progetto europeo riguarda proprio i rischi e cercare di limitare la problematica proprio dell'ingestione anche di piccole parti, di ecodosi. E c'è un piccolo kit, proprio un neurokit, che aiuta le mamme a capire proprio le dimensioni anche di quelli che sono gli oggetti pericolosi per i nostri bambini. Ecco, questo kit, visto che è particolarmente utile proprio per le mamme che magari sono all'ascolto, dove può essere recuperato quindi per chi ci sta guardando? Si può richiedere gratuitamente presso l'Associazione dei Pediatri, in particolare il professor Marcello Giovannini che è il presidente dell'Accademia Europea delle Scienze Nutrizionali e che è stato anche presidente di Milano Pediatria, è da riferimento proprio per le famiglie per avere tutte le informazioni in merito. Io ringrazio moltissimo anche oggi Cinzia Boschiero, la nostra giornalista specializzata in tematiche europee, perché quando viene da noi insomma apre una finestra su quelle che sono le possibilità che l'Europa ci propone, quelle che possono essere insomma le nostre interazioni, perché siamo partiti proprio con un invito, quello di poter proporre addirittura le nostre idee, dobbiamo effettivamente informarci, continuare a farlo e capire che siamo tutti europei, vero? Una democrazia partecipativa, quindi essere non solo dei brontoloni, ma soprattutto dei cittadini consapevoli delle opportunità e severi con chi non ce le fa utilizzare. Grazie ancora Cinzia dunque. E noi ci interrompiamo perché siamo arrivati al momento della musica, ascoltiamo insieme Pink con Rise Your Glass e dopo siamo di nuovo in diretta ad Angoli. Rise Your Glass, Pink, dunque noi ritorniamo in diretta come promesso nel nostro salotto, vi avevo detto che sarebbe ritornato, l'abbiamo atteso per un po' di tempo, mentre andava la musica mi diceva che ci stiamo vedendo un po' troppo, io dico di no che non è mai abbastanza e dunque do il benvenuto a Giancarlo Mantelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, presidente del consiglio di amministrazione di Matfelco, come sta innanzitutto? Bene, tutto bene, solo che penso di essere un po' noioso a questo punto dopo tre o quattro mie apparizioni. Ma no, ma come noi l'aspettavamo addirittura. Ah, va bene, allora diciamo che va bene così. Va bene, perché quando arriva lei, insomma, viene innanzitutto un signore molto simpatico, un signore molto preparato e poi ci porta alla luce. E questo soprattutto. Perché ricordiamo, i Matfelco, insomma, è un po' il professionista della luce. Esatto. Ricordiamo per chi non lo sa, due parole. Progettate la luce. Progettate la luce. In che modo? Intervenendo un po' negli spazi cittadini, interni. Esatto, nei spazi cittadini, in vari luoghi, insomma, all'esterno, all'interno. Ma oggi volevo un momentino puntualizzare quelle che sono le sorgenti luminose. E' vero, facciamo una sorta di passi indietro. Esatto. Partiamo proprio da... Dalle origini. Dalle origini. Ecco, diciamo. Giancarlo, ci guidi. Dalle origini, che vuol dire da Edison, che ha inventato la lampadina classica. Sì. E che la lampadina ha illuminato per decenni dei lustri in nostri luoghi e che da qualche anno è sostituita da lampadine a LED a basso consumo e quant'altro. E' vero, perché c'è stata proprio una trasformazione. Un'evoluzione enorme in pochissimi anni. Anche perché sono entrate delle dinamiche di risparmio energetico, è vero? Soprattutto risparmio energetico, pensi che noi in azienda stiamo proprio progettando di sostituire tutti i corpi illuminanti esterni e interni con LED. Esterni specialmente, perché vediamo che c'è una riduzione di consumo dell'80%. E quindi direi che... E quindi dove ci sono... Facciamo del bene alle nostre bollette e poi anche all'ambiente. Certo, certo. C'è da dire che per quanto riguarda le abitazioni, non tutti i LED vengono a essere usati e quindi possono sostituire le lampadine tra virgolette tradizionali. Diciamo che c'è ancora per gli interni una scelta da fare. Soprattutto, sì, va bene il risparmio energetico, ma in certi punti per illuminare passaggi, eccetera, bisogna ancora stare sulle lampadine, non dico tradizionali, ma quelle o a LED o a ioduri metallici. Ecco, diciamo che insomma, comunque ci sono degli esperti come voi che possono anche darci dei consigli, vero? Consigliare, certo, certo. Perché poi è anche quello un po', noi magari ci figuriamo la nostra casa con dei punti luce nuovi, vogliamo rinnovare un po' l'ambiente, però è giusto anche portare le proprie idee, ma confrontarsi con chi ci può dire se è fatti di o meno. Allora, facciamo così, prima di vedere l'espositore che ci ha portato, che è molto interessante, do il sito internet che almeno noi siamo a posto, lasciamo tutti i contatti, www.imatfelco.it Sono andate anche alcune fotografie che ci ha portato, che giustamente danno valore a quello che dicevamo, loro intervengono in esterni, abbiamo visto anche un po' degli spaccati di Como. Questo è il vostro sito, ma arriviamo a quello che abbiamo in studio, che cos'è? Allora, questo è un espositore che rende, diciamo, l'idea, per somme linee, di quello che sono le attuali produzioni, e non tutte. Io qui sono partito, diciamo, dalla lampadina tradizionale, che è quella che abbiamo nelle nostre case. Quella incandescenza con il filo, vero? Questa incandescenza con il filo, quella inventata da Edison, per intendersi, 1870 è qualche cosa, e per poi passare a una abbastanza simile, che però è a LED. Allora, questa è 60 watt, questa sono 7 watt di consumo, quindi la differenza è quasi un decimo. Eh sì, per i consumi però la resa luminosa... La resa è praticamente, come si può vedere, è quasi uguale. Eh sì, assolutamente. È una tonalità diversa, ma è quasi uguale. Quindi queste, diciamo, che sono da interno, la tradizionale famosa di cui parlavamo, e quella a LED. Esatto, esatto. L'altra cosa da notare è la lampadina a LED per faretti, dove si usa molto nelle cucine oggi per illuminare i piani di cottura, dove c'è l'alogena, che è sempre attuale, che però, tipo questa, che ha un consumo di 50 watt, contro quest'altra a LED, che, ecco, che è un consumo di 10 watt. Quindi un quinto... Anche qui c'è molta differenza. C'è da notare che la differenza è anche nel prezzo. In che termini? In termini 1 a 10. Sì. Però, mentre la tradizionale, l'alogena, ha una durata da 3-4 mila ore, quella a LED ha una durata di 40 mila ore. Beh, insomma... Quindi 10 volte tanto. 10 volte tanto. Quindi il prezzo giustifica la durata. Eh beh, insomma, 40 mila ore non stiamo parlando di poco tempo, eh? Poi, senza contare che quando, se c'è maggior durata, si interviene meno nella sostituzione. Certo. E dove queste sono all'incasso, ci vuole poi l'elettricista, eccetera. Non è semplice la massaia che sostituisca la lampadina, come questa, che si trattava di svitare la lampada. Semplicemente. Qualcuno svitava la casa anziché la lampada... Ma quello era un altro discorso. Voleva dire che non si era particolarmente. Girava la casa anziché la lampada. Eh beh, insomma, ognuno può scegliere, eh? Cosa gli torna più comodo. Ma mi sto chiedendo, appunto, quando noi parlavamo di lampadine tradizionali, insomma, anche noi casalinghe eravamo facilitate perché dicevamo, vabbè, insomma, abbiamo visto, si è rotto il filo, sostituiamo e tutto. Adesso non c'è più una situazione proprio dove la luce alternativa, quella tradizionale, dove si rompe qualcosa. Diciamo che si esaurisce. Come funziona in questo senso? No, se si esaurisce la lampada, si può esaurire la lampada fluorescente, quella va cambiata quando viene esaurita. Anche lì le lampade fluorescenti, che sono quelle in genere a tubo, che si conoscono come lampade tubolari, hanno durata, l'ultima produzione, hanno durata decisamente superiore. Proprio migliaia di ore in più. Beh, insomma, direi che questo comunque diventa già un elemento da prendere in considerazione se fossimo in fase comunque di ripensiamo le luci del nostro ambiente. Quindi, sull'espositore che ci ha portato, togliendo magari proprio la tradizionale che conosciamo tutti molto bene, ce li può abbinare, secondo lei, a delle situazioni, ognuna ad una situazione domestica, per intenderci? Allora, mi è fatto bene fare questa domanda, perché è un problema. Lei vede questa lampada? È una lampada che, insomma, può sembrare una fiamma, no? È vero. Una volta i lampadari a bracci, alcuni mettevano la lampada a fiamma. Questa l'hanno realizzata a fiamma, diciamo. Questo non si vede, bisognerebbe vederla lateralmente, e quindi può sostituirla tradizionale. Benissimo. Sui lampadari a bracci. Le sue caratteristiche me le ha detto prima? Le caratteristiche, questa qui è una lampada alogena a 42 watt, 230 volt. In più questa si può svitare e sostituire la lampadina che c'è dentro. Quindi gli affezionati dello svitare. Per pulirla la può svitare e pulirla all'interno. Quelle in alto a sinistra, mi perdoni se non sono molto tecnica, esatto, quelle dicevamo per ambienti da cucina invece. Questi ambienti da cucina, da bagno, da anticamera, da corridoi, da disimpegni, vanno benissimo. Si usano molto incassati nei controsofitti. Poi naturalmente le fogge sono varie, ci sono quadrati, rotonde, diverse fogge. Quindi anche lì ci si può un attimo scegliere, c'è possibilità di scelta. Quando invece intervenite, visto che abbiamo visto le fotografie all'esterno, lì ci diceva, insomma, la tradizionale proprio lì non si guarda più, si fa a LED. No, esatto, esatto. Qui abbiamo, diciamo che l'illuminazione all'esterno di ambienti eccetera, può essere anche mista a LED o ioduri. Che differenza c'è tra l'una e l'altra? Il LED è una piccola sorgente luminosa, piccolissima, che è un microchip con determinati prodotti all'interno che crea questo. Lo ioduri è un'altra costruzione totalmente diversa. Ha altri gas all'interno e altra costruzione interna. Però dà anche una luce abbastanza forte, ecco, diciamo. Quindi questo possiamo sia prenderlo in considerazione o comunque valutarlo per il discorso di quando voi come i Matfelco intervenite, proprio l'abbiamo visto in piazze, magari in ambienti esterni, monumenti, ma anche dal punto di vista delle nostre case, per i nostri giardini o quant'altro. Esatto, e naturalmente tenendo d'occhio i consumi, perché è molto importante. C'è alcune foto che io ho mandato, c'è una, ecco, questa qui è una cantina, c'è l'esterno di una chiesa e la chiesa, che è fatta all'esterno a LED, e la chiesa, ecco, questi qui sono a LED. Sì. È un municipio. Quindi voi avete privilegiato, insomma, avete sottolineato le colonne in quel caso. Esatto, dipende anche dall'ambiente. È vero? Per alcuni si usano i LED, questi sono fluorescenti. Ecco, questo è un negozio di parrucchiere, fatto con delle fluorescenti tonde, incassate nel soffitto. Perfetto. Quindi questo è, ed ha una resa, questa è una chiesa, una chiesa. Dove? Questa qui è la chiesa di Drezzo. Drezzo? Drezzo, che è abbastanza vicino. Sì. Abbiamo illuminato sia l'interno, ecco l'esterno, vede? Qui abbiamo la base dei muri e a LED, invece campanile eccetera e ioduri. Ah, ecco, e qui è stato... Quindi abbiamo ottenuto, per vedere il LED è un po' più concentrato, l'olio duro è un po' più ampio. Diffonde maggiormente la luce. Esatto, esatto. Ok, quindi anche qui è stata fatta una scelta. A seconda, questa è a risparmio energetico, questi lampioni sono dentro a risparmio energetico. Perché lo sa che c'è un po' il luogo comune... ...che sono un po' queste lampade qui. Quelle che, ecco, la tengo in mano che almeno la facciamo vedere, perché lo sa che c'è un po' il luogo comune... ...che la lampadina a risparmio energetico sia fioca. Questo si pensa. No, allora, all'inizio c'era un'accensione... Certo, all'inizio c'era un'accensione lenta e poi andava in temperatura, dopo 30 secondi, anche un minuto. Oggi l'ultima produzione dà un'accensione quasi immediata. Quindi quella che stringe fra le mani è di ultima generazione. È di ultima generazione, sì, adesso sono quasi tutte di ultima generazione. Quindi... Quindi danno una buona resa. Insomma, il lavoro... Ritorniamo alla città di Como perché quando ci siamo incontrati l'ultima volta con il signor Mantelli, insomma, l'abbiamo capito, lui è molto affezionato alla nostra città. Il lavoro di cui è più orgoglioso per lasciarci così e soprattutto per lasciare i nostri concittadini con il naso all'insù per guardare qualcosa in città. Il lavoro di Como, l'ho visto passare lì, è la famosa piazza Gobetti che noi abbiamo illuminato. Abbiamo, diciamo, ripristinato l'illuminazione che preesisteva. Quindi abbiamo fatto solo un'operazione di macchiasma e era praticamente... Eccola qui, davanti a lei. Questa era quasi totalmente spenta, adesso come si vede è quasi illuminata a giorno. Qui avete portato quali luci e quali avete scelto? Ah, qui abbiamo dovuto mantenere le luci che c'erano già in precedenza, quindi gli odori metallici. Ecco. Questi qui, sì, abbiamo perché altrimenti avremmo dovuto cambiare tutti i corpi illuminanti. E allora, quando passerete in piazza Gobetti, buttate un occhio all'illuminazione e saprete che, insomma, dovrete associare il lavoro che è bellissimo al signor Mantellaro, a tutta l'equipe di Matfelco perché sono stati loro. Segnalo ancora per lasciarci con il sito internet www.imatfelco.it Io ringrazio tanto il Presidente. Grazie a voi dell'ospitalità. Spero di ritrovarla. E speriamo di essere stato utile per qualche chiarimento. Secondo me sì, grazie tante ancora. Grazie, di nuovo. E noi ci interrompiamo perché è arrivato il momento della nostra pausa e dopo saremo ancora in diretta insieme con nuovi ospiti. Vi aspetto. Ben ritrovati, siamo sempre in diretta. Abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme per questa puntata di giovedì 29 novembre. E vi ricordo che è sempre attiva la nostra casella di posta elettronica, angolichiocceleespansionetv.it. Vi invito ogni giorno, se volete sentire la vostra voce, insomma, scriveteci una mail. E noi siamo lieti di leggere le vostre impressioni e darvi maggiori informazioni, se mai aveste bisogno. E allora, abbiamo parlato poco prima della pausa, un po' del mondo luce con il risparmio energetico. Sapete che è una tematica che portiamo avanti spesso. Ritorneremo a parlare di risparmio energetico tra poco perché ve l'ho promesso, sta per arrivare, anzi, uno dei due ideatori di Abitare Eco che incontriamo di settimana in settimana. Ma prima di fare tutto questo, che cosa facciamo? Beh, ci prendiamo una bella fetta di tempo per raccontare il mondo della Valtellina. Io ho detto gli appassionati dell'enogastronomia, gli appassionati dei paesaggi belli, delle vacanze invernali. Insomma, adesso avranno veramente tanti spunti da segnarsi perché inizia una stagione che premia la bellezza del posto. Sono felice che sia tornato a parlarcene e dunque è in studio con noi Mario Cotelli. Buongiorno. Buongiorno. Mario Cotelli è presidente del Consorzio Destinazione Turistica della Valtellina. Già nostro ospite, però visto che noi li vorremmo qui tutti i giorni, i nostri ospiti, ma non è possibile, è passato un po' di tempo, le chiederei di ricordare brevemente il Consorzio quando è nato, da chi è composto e con quali finalità. Perché almeno chi avesse perso la sua ultima presenza da noi riesce a riaggiornarsi. Dunque, il Consorzio ha un anno, ha due soci, il 60% è la provincia di Sondria e il 40% è la camere di commercio di Sondria. Mission è quella di portare avanti la Valtellina come destinazione turistica unica. Sostanzialmente in sintesi è questo. In sintesi è questo. Perché dobbiamo ricordare, insomma, magari molte persone che ci seguono già l'hanno scoperta la Valtellina, insomma, lo sanno che offerta ha. Però molte altre persone ancora magari non hanno ben chiaro che la Valtellina ha un'offerta a 360 gradi in realtà. Ha tolto il mare, via però. Diciamo che il Lombardo dovrebbe conoscere la Valtellina. Ogni tanto la tradisce. È vero. E quello non va assolutamente bene. No. Si fa sempre la campagna affinché si consumi a chilometro zero. Ecco, anche il turismo della montagna dovrebbe essere a chilometro zero, almeno noi il Valtellinere ce la curiamo perché siamo nella regione più grande d'Italia, una delle nazioni più grandi d'Europa, perché la Lombardia in effetti è questo. E quindi vorremmo che gli stessi abitanti della Lombardia venissero di più in Valtellina. È vero. Noi siamo esterofili, ma non sono nei confronti della Svizzera, siamo esterofili anche nei confronti della Val d'Aostra, del Trentino, dell'Alto Adige, perché il Lombardo si sente con il curry man. Ecco, è tra le regioni d'Italia, il Lombardo è quello che esporta di più, o meglio, importa più turismo di quanto non lo facciano gli altri. I Piemontei stanno in Piemonte, i Venenti stanno in Vento, i Lombardi vanno dappertutto. Vanno dappertutto. Lombardi all'ascolto. Allora, noi arriviamo in tutti gli angoli della Lombardia. Lombardi all'ascolto, insomma, la Lombardia è bella, è bella, deve essere conosciuta, deve essere valorizzata prima di tutto da noi. E allora, la Valtellina, parliamo dei suoi punti di forza per tutti questi Lombardi che sfuggono a destra manca. Allora, per quanto riguarda l'inverno, che è imminente, e quindi il discorso neve, anche se il mio slogan è in Valtellina, c'è anche la neve, perché abbiamo tantissime altre cose. Cominciamo dalla neve. Partiamo da quella. Allora, 12 mesi all'anno, siamo gli unici, quelli che finisce lo Stelvio comincia a Bormio, finisce Bormio, o finisce Livigno, finisce Santa Caterina, finisce Madesimo, finisce la Pega, finisce l'Almanico, ricomincia ancora lo Stelvio. Quindi 12 mesi all'anno si può sciare in Valtellina. Quando uno vuole essere sicuro di sciare, viene da noi. E il primo mi sembra bello corposo. Bello corposo. Poi, avendo molte stazioni che arrivano fino a 3000 metri, quindi abbiamo anche la garanzia neve. E soprattutto, rispetto ad altre località, abbiamo una garanzia neve, bella neve, perché a sud delle Alpi c'è poca umidità, quindi c'è neve molto farinosa. Mentre invece a nord delle Alpi, o anche in altre zone non protette dalle montagne, come siamo noi, per esempio andando verso il Trentino, l'Alto Aliso e il Veneto, la neve è più soggetta a variazioni e quindi è molto meno bella da sciare che non da noi. Anche questo è un dato di fatto. Giusto dirlo. Due. Due. Siamo l'unica provincia alpina di montagna in Italia che ha quattro stabilimenti termali con acqua calda naturale, 36-42 gradi, che sono i due bagni di Bormio, i bagni vecchi e i bagni nuovi, le terme di Bormio e i bagni di Magino. Quindi siamo gli unici che a un certo momento hanno un vero benessere, un vero wellness, quindi siamo gli unici che hanno sci più terme. È vero. Se uno va a Bormio, può comprare la testa, due giorni, tre giorni, dai due, gli otto giorni e decidere la mattina, vado a sciare o vado a fare le terme. Questo non ce l'ha nessuno. Vero, vero, vero. È già un altro paio di mani. Sta passando... Guardi. Ecco, un po' di gastronomia. Terzo punto. La presa aula ce l'abbiamo solo noi, il grano sereo ce l'abbiamo solo noi, i pizzocchi ce l'abbiamo solo noi, i sciaccia ce l'abbiamo solo noi, i trozzi ce l'abbiamo solo noi e questo tipo di video ce l'abbiamo solo noi. Di conseguenza anche la gastronomia fa parte di un unicum. È vero. E dopo aver sciato, dopo aver mangiato, no, dopo aver sciato, dopo aver fatto il bagno, una bella mangiata va solo bene. Poi, dall'altro punto di vista, siamo da un punto di vista ambientale, il 50% del nostro territorio sono parchi e riserve naturali. Parco nazionale Osterio, Orobie e altri 12 tra parchi e riserve naturali. Quindi c'è di tutto e di più. Ecco perché c'è anche la neve. Alla fine c'è anche la neve. Ma visto che siamo in fase vigneti, cantine, parliamo un po', che ci segue sempre qualche amante del buon vino, eh? Insomma, parliamo un po' del vino valtellinese. Allora, il vino valtellinese negli ultimi 15 anni ha fatto un salto di qualità. Cioè, siamo andati dalla quantità alla qualità. Sì. Anche perché siamo piccoli, non possiamo fare quantità noi valtellinesi. Dobbiamo fare per forza di cose qualità. Allora abbiamo scelto di posizionare su un target medio-alto. Questo fatto ci ha fatto per determinati mercati bassi, ovviamente, però ci ha fatto guadagnare... Almeno siamo entrati nell'ipare del vino, diciamo così, no? Grazie a quali bottiglie? Nominiamone qualcuna. Beh, i quattro tradizionali, Sassella, Inferno, Grumello e Valgella. I quattro tradizionali. Ma poi abbiamo lo Sforzate, che è l'unico della valtellina, perché le altre vengono tutte da un vino nebbiolo, quindi può darsi che abbiano qualche affinità con il nebbiolo piemontese, piuttosto che con il gattinare al game, quindi i vini piemontesi e rossi piemontesi. Però lo Sforzate è solo nostro. Certo. Perché l'utilizzo di uve passe, quindi uve passe seccate, è un vino 17-18 gradi, è un vino da meditazione. Ecco, non fare l'errore, non fare l'errore di berlo con il pizzocco, perché con il pizzocco ci vorrebbe un vino un pochettino più acidulo, perché il pizzocco è grasso, quindi dobbiamo sgrassare. Invece quello da meditazione lo teniamo dunque per? Per il bitto. Per il formaggio finale, bitto e sforzato, è la cosa migliore del mondo. È vero? Un po' di pane di segale, se dopo finire il bitto si prende un po' di bisciola, qualcosa del genere, si va avanti e si finisce magari con un brauglio o con un grappino, quindi è completata la giornata. E meglio di così avete avuto lo sci, la neve, il paesaggio invernale, l'acqua naturalmente calda delle terme, poi una bellissima cena all'insegna della convivialità e di prodotti eccellenti, insomma, se non è questa la vacanza perfetta, ditecelo voi. Ecco, noi non siamo solo sci, quello che vorrevo dire, perché noi siamo un po' vissuti un po' troppo come uno sci, anche da parte di Comaschi e Lombardi in genere. Invece vorrei che ci conoscessero più come montagna a 360 gradi e come vacanza turistica a 360 gradi. Dal primo gennaio al 31 dicembre, senza soluzione di quantità, anche la primavera all'autunno. Anche perché voi spingete e sostenete giustamente quella che è l'iniziativa Valtellina e eventi, proprio a sottolineare l'impegno e questa offerta che si muove. Beh, evidentemente, indirizzate soprattutto a quelle che sono le manifestazioni che si fanno a settembre-ottobre, manifestazioni che sono abbastanza tipiche e hanno, si sono caratterizzate, per esempio, la sagra del Bitto, la sagra dei crotti, la apertura delle cantine, cioè tutte sagre che hanno la funzione di far conoscere bene la gastronomia. Però, quello che destagionalizza più di tutti da noi in questo momento è il termalismo, perché consente a un certo punto di fare, cioè di non vincolarci estate-inverno, e di fare anche la primavera all'autunno. E che non è poco. Visto che è passata, non l'ho voluto interrompere, però io la guardavo, la Bresaola, insieme ai nostri telespettatori. Lei prima ha detto, la Bresaola ce l'abbiamo solo noi. E io dico... No, la Bresaola della Valtellina. Esatto. Poi posso farla a tutti. È quello che dico, la Bresaola c'è ovunque, ma per chi non l'ha provata ancora, per chi ancora non l'ha provata, io l'ho provata e lo so, ma perché è così speciale quella della Valtellina? Perché sostanzialmente, io penso, la ricetta della Bresaola possono farla anche in Sicilia. Solamente in Sicilia hanno un altro clima, un altro meteo, e di conseguenza non viene così bene come da noi. È come la storia del culatello di Parma, il prosciutto di Parma. Il prosciutto di Parma è il vento che scende, sono i venti marini che vengono giù dalla Cisa, e quindi fanno essiccare bene, stagionare bene il prosciutto. Da noi è la stagionatura in Valtellina, perché anche in Valtellina, non da tutte le parti, stagionano allo stesso modo. È vero, quindi è un ulteriore prodotto che ci racconta un territorio, perché è un dialogo costante. Io non ho vergogna a dire che... Una volta la Bresaola si faceva con la carne di mucca valtellinese, ma ha avuto un tale successo che noi non abbiamo 250-300 mila mucche all'anno da uccidere per fare la Bresaola, e quindi bisogna comprarle. Dove si comprano? In Argentina e Brasile, perché sono le uniche mucche che mangiano l'erba. Mentre invece quelle europee, ecco, che mangiano più che altro mangimi, o sono anche magari pompate, non vanno bene per fare la Bresaola. Si possono utilizzare delle carni irlandesi, perché anche in Irlanda hanno pascoli per 12 mila mucche all'anno. L'Irlanda è particolarmente verde, lo sappiamo. Allora, io voglio segnalare il sito internet, perché noi abbiamo raccontato tante cose, però poi uno vuole saperne di più, www.valtellina.it. Ci lasciamo, signor Cotelli, dicendo che comunque in qualsiasi stagione si voglia vivere la Valtellina, qualsiasi sia il periodo di vacanza che decidiamo di fare, la Valtellina è una destinazione per la famiglia, per tutti comunque. Lo slogan è molto semplice, Valtellina è vacanza per tutti e per tutta l'età. In Valtellina si può ritagliare qualsiasi scampo di vacanza, ma proprio per tutti, poi anche per tutte le tasche se vogliamo, perché ce n'è per tutti. Questa è una cosa importante. E allora, io mi auguro... Vorrei ricordare un'altra cosa, a proposito che siamo a Como. Nell'ambito di Ocesi di Como, il territorio che ha più popolazione, più grande è la Valtellina, anche rispetto a Como, perché solo una parte di Como fa parte della diocesi di Como. Ha visto, ci ha dato anche questo... Sì, me l'aveva detto un vescovo di Como, vescovo Maggiolini, me l'aveva detto lui. E beh, allora, insomma, la ringrazio per averli portato... Infatti volevamo portarlo in Valtellina e poi l'aveva lasciato a Como. Ok, grazie. Siete stati molto generosi, ne abbiamo beneficiato noi comaschi. No, io la ringrazio per la competenza, la simpatia consueta. Spero che ritorni presto a parlarci, insomma, del mondo Valtellina. Quando volete, sono disponibile. Grazie a Mario Cotelli, lo ricordo, è stato con noi il presidente del consorzio Destinazione Turistica della Valtellina. Mi auguro di ritrovarlo presto, però noi adesso dobbiamo prenderci la consueta pausa musicale. Ascoltiamo insieme Katy Perry con Part of Me e poi siamo di nuovo in diretta. Dopo che ti perdi ritorniamo nel nostro studio, ve l'avevo promesso, è ritornato Raul Gatti. Buongiorno. Ciao Roberta. Sono felice che sei tornato, è il nostro è un appuntamento fisso che ci fa molto piacere. Ricordo che sei consulente energetico e co-ideatore di Abitare Eco. Esatto. Insieme al collega Paolo Beneggi. Paolo Beneggi, che oggi purtroppo non è potuto venire per un impegno, però... Però so che magari ritornerete insieme, chi può dirlo, speriamo, perché la settimana scorsa c'eravate insieme. Sì, esatto. Eh vabbè, oggi farai la parte di due, insomma parliamo di una cosa molto importante, perché quando parliamo di Abitare Eco parliamo di una casa in salute, perché abbiamo sempre parlato dell'importanza del risparmio energetico, dell'isolamento di un edificio, oggi parliamo di muffa, Raul, è corretto? Esatto. Penso interessi molte persone all'ascolto, cerchiamo di capire che cos'è e per quale motivo si forma a volte nelle nostre case? Sì, come giustamente hai detto è un problema che è molto diffuso nelle nostre abitazioni. La muffa sono un insieme di spore che sono dannose alla nostra salute e che si formano in particolari condizioni, ovvero in quegli ambienti dove c'è molta umidità e temperature molto fredde. Quando si verificano queste due condizioni? Si verificano principalmente in inverno, perché d'estate io personalmente non vengo mai chiamato per un problema di muffa, perché d'estate non c'è, le temperature sono molto alte e quindi non ci sono problemi. D'inverno invece c'è proprio questa combinazione dove all'esterno le temperature ovviamente scendono al di sotto degli zero gradi, raffreddano le nostre case, ma anche proprio le strutture le raffreddano e noi tendenzialmente per evitare proprio che ci esca calore teniamo chiuso in casa. Tenendo chiusa la casa, noi che siamo dei grandissimi produttori di vapore acqueo, semplicemente il fatto che cuciniamo, ci laviamo, dormiamo, due persone che dormono di notte producono quasi un litro di vapore acqueo. E respiriamo dopo tutto anche tra le altre cose. Quindi creiamo questo grosso accumulo di umidità all'interno dell'abitazione e dove proprio le superfici sono più fredde si va a depositare e lì incomincia a nascere la muffa, che nasce molto prima del problema successivo che è il gocciolamento. Quindi nasce prima la muffa ed è un allarme che c'è un problema sulla casa e poi la casa incomincia a gocciolare la parete e in quel momento è proprio in uno stato proprio di degrado. Ecco, molto chiaro il che cosa sia la muffa e come si forma. C'è un modo però per prevenire questo meccanismo? Sicuramente sì, per fortuna anche dico. Allora, sugli edifici nuovi è un tema che poi magari affronteremo successivamente. Concentriamoci sull'esistente. Sull'esistente abbiamo due possibilità di intervento. Un metodo attivo che va quindi ad agire sull'umidità e che dipende da noi. Per questo è attivo. Dipende da noi perché il primo sistema è quello di aprire la finestra. Noi che abitiamo in casa possiamo aprire le finestre. Aprire le finestre e dare una giusta reazione ai locali è questo il primo sistema per eliminare i problemi di umidità in casa. Poi ci sono sistemi che dipendono da un sistema di energia, quindi dei umidificatori, piuttosto che sistemi di ventilazione meccanica controllata che appunto ricambiano l'aria 24 ore su 24. oppure, cosa poco consigliabile, alzare la temperatura in casa, quindi alzare di un grado la temperatura del riscaldamento. Perché è poco consigliabile? Perché ovviamente tutti questi sistemi si portano con sé a un grosso problema che è quello dello spreco energetico. Certo. Che noi non vogliamo promuovere. Per abitare eco, anzi fa dello spreco energetico, insomma una battaglia, diciamo così, quindi diciamo che escludiamo questa possibilità. Assolutamente. Non si attra la temperatura. Ci sono invece dei sistemi passivi, ovvero che non ci rendono più così tanto attori all'interno delle nostre abitazioni, ma che vanno a lavorare sulle temperature. Anche in questo caso non parlo di impianti, ma parlo di coibentazione dell'edificio. Cioè se io riesco ad isolare bene il mio edificio, sono in grado di aumentare le temperature all'interno dell'abitazione e quindi la mia umidità che ho all'interno diminuisce in termini percentuali. Per spiegare bene questo concetto mi sono fatto aiutare ad una immagine che ho portato. Sì, 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 perché detta così posso capire che magari lasci un po' frastornati. Ok, aiutaci. Questo è un esempio idraulico dal quale però traggo spunto. Allora, ci sono tre contenitori. I tre contenitori hanno una parte comune, che è quella fascia azzurra. Sì. Quella fascia azzurra è acqua. Sì. Per noi, quindi rapportato al problema umidità e temperatura, quell'acqua è l'umidità che abbiamo all'interno delle abitazioni. L'altra variabile è l'altezza del contenitore. Sì. Ok. Allora, considerando il caso A, quello di sinistra, abbiamo una certa temperatura con un certo quantitativo d'acqua. Più o meno è la metà? La metà, sì. Benissimo. Allora, qui siamo nel caso in cui abbiamo una temperatura con il 50% di umidità relativa all'interno. Ok. Nel secondo caso abbiamo abbassato il contenitore, quindi abbiamo abbassato la temperatura, ma la quantità di acqua è sempre costante, cioè è uguale come nel caso A. Cosa è cambiato? Che questa quantità d'acqua occupa una percentuale di volume maggiore rispetto al volume totale del contenitore. Quindi siamo in una condizione di circa il 70% di umidità nell'aria. Il terzo caso, che è il peggiore, è quando la temperatura è talmente bassa che quella quantità di acqua non è più in grado di essere contenuta nell'aria e quindi tracima e satura. E quindi quando tracima e satura succede quello che gocciola. Mentre nel caso B siamo nel caso in cui incomincia a formarsi la muffa, perché abbiamo un'umidità alta e una temperatura bassa. Allora, caso A ancora stato di salute ottimale. Ottimo. Ottimo. Caso B, attenzione allarme, arriva la muffa. Caso C, attenzione, arrivata la muffa non hai fatto nulla, la casa incomincia a gocciolare. Quindi la muffa è proprio un campanello d'allarme nella nostra casa? Sì, contrariamente a quanto si pensa, perché solitamente si pensa che arriva prima la condensa e poi la muffa, in realtà è esattamente il contrario. Io ho notato dalle immagini che ci hai fatto vedere prima, che dalle fotografie dell'interno di una casa dove c'era la muffa, che questa si concentrava negli spigoli, negli angoli. È un caso o c'è una spiegazione per questo? No, sei un'attenta asservatrice. Non è assolutamente un caso. Mi faccio aiutare, ritornando alle termografie di settimana scorsa, sperando che poi siano state chiare. Sì, ricordo in breve, praticamente registra la temperatura questa fotografia. Registra la temperatura, le parti gialle sono calde, le parti tendente al viola sono fredde. Allora, in questo caso, che è una termografia fatta dall'interno, noto che nonostante l'edificio sia uguale in tutte le sue componenti, ha dei punti che sono più freddi. Sì. Ok, benissimo. Se possiamo ritornare sulla camera su di me? Io volevo portare un pezzo di muro per far capire, però... Un pochino ingombrante. Allora, mi aiuto con questi schemi, non so da che parte posso... Da questa parte, guarda. Da questa parte. Allora, cerchiamo di capire il perché io ho un problema di muffa sempre nello spigolo piuttosto che sulla parete, sull'intera parete. Cosa succede? Io ho del calore all'interno dell'abitazione e il calore tende ad andare sempre verso l'esterno, quindi dalla temperatura più alta a quella più fredda. Stiamo leggendo questo disegno come una sezione di un muro. Di un muro, è come se tagliassimo in orizzontale il nostro muro. Benissimo. Allora, cosa succede? Il mio flusso di calore per la superficie equivalente di parete esce per una parte proporzionale di superficie esterna. Nello spigolo che cosa succede? Che io ho una linea alla quale corrisponde una superficie molto più ampia sull'esterno, quindi cosa succede? Che in quel punto il calore si concentra perché trova una strada all'esterno più ampia e quindi tende ad andare molto più veloce in quella direzione. Ed è per questo che negli spigoli abbiamo sempre il problema della muffa. Ecco perché è lì. Ecco, e abbiamo spiegato perché. E questo è il classico ponte termico geometrico. Quindi è un ponte termico che non possiamo risolvere, possiamo attenuarlo, ma non risolvere. Insomma, è così. Se abbiamo degli angoli, a meno che ci facciamo una casa circolare, ma non è ancora... Esatto, bravissimo. Ah, una bella idea. No, scherzo. Il secondo tipo di ponte termico è questo. Eccolo qua. È sempre la sezione orizzontale del muro. Allora, abbiamo un ponte termico dovuto a diversità di materiali. Il classico esempio è il pilastro in cemento armato. La parete in laterizio piuttosto che altro materiale conduce calore in maniera meno veloce. Mentre il calcestruzzo, che ha una conduttività molto più alta, conduce calore in maniera molto più veloce. E il calcestruzzo qui nel disegno lo vediamo, quello dove ci sono tante freccezze. Ho messo tante freccine proprio per questo, in modo tale che si capisse che lì c'è un flusso di calore molto più consistente rispetto alla parete. Ed è per questo che anche in quel punto la muffa arriverà prima, perché è il primo punto dove si raffredda la superficie. Beh, grazie per aver fatto i disegni, perché no, adesso io sorrido, però io sono la prima utente e temo che senza questi avrei fatto fatica a capire. Così è molto chiaro, perché abbiamo capito, insomma, ci sono delle geometrie dove per forza di cose è quello che mi rimane un punto critico e ci sono invece su un muro liscio, magari all'interno, di diversi tipi di materiali ed è quello il motivo per cui magari su una parete in quel punto... E così è molto chiaro. Cosa si fa? Il passo successivo? Il passo successivo è proprio quello di andare a cercare di innalzare le temperature dappertutto e lo faccio solo ed esclusivamente con un isolamento. Nella prossima puntata vorremmo proprio approfondire il discorso del posizionamento dell'isolamento, perché abbiamo tre posizioni dove possiamo metterlo, che è esternamente, all'interno delle pareti, laddove ci siano due pareti con una camera d'aria, oppure all'interno. Valuteremo proprio quali sono le soluzioni più congeniali e magari affronteremo anche il tema proprio dei materiali, cosa utilizzare all'esterno, nell'intercapedine, piuttosto che all'interno. E allora, è solo un appuntamento rimandato quello, è solo un saluto che facciamo per dire dobbiamo continuare a parlare di tutto questo. Io intanto, Raul, ti ringrazio tanto perché ci hai fatto la lezione propedeutica. Questa è quella che si chiama la lezione che serve per capire la prossima. importantissima, però se anche voi a casa, noi abbiamo anche un po' scherzato, però vi siete riconosciuti, sapete di avere questo tipo di problema. Innanzitutto www.abitareeco.it e iniziate ad andare a vedere che cos'è il progetto Abitare Eco, perché parla di questo e di molto altro, parla della salute delle nostre case. Quindi, andate a vedere informazioni. Loro rispondono, perché anche per una consulenza, anche per un confronto. Senza nessun problema, in forma anche gratuita, per cui non c'è nessun problema. Per noi, ripeto e ribadisco, il punto fondamentale del nostro progetto è che la sensibilizzazione sull'efficienza energetica prenda piede. E dunque, appuntamento a settimana prossima per andare avanti e capire come si può fare e poi lo step successivo, giusto? Esatto. Grazie Raul Gatti, consulente energetico e coideatore di Abitare Eco. Ci diamo appuntamento a settimana prossima, è promesso oramai. Dunque, noi dobbiamo salutarci invece perché questa puntata è giunta al suo termine, ma domani chiuderemo insieme anche questa ricca settimana di ospiti. L'appuntamento, come sempre, per le 12 in punto, qui in diretta su Espansione TV. Arrivederci.